Non dovrei dire Carlo Pallavicino, dimmi. No, Furio, io capisco tutto perché sai bene che dico sempre che Furio si ama ma non si ascolta perché come giustamente hai detto te tempo fa, purtroppo quest'anno non ne hai indovinate tante, anzi diciamo che le hai toppate tutte, però questo non vuol dire che la tua simpatia vada oltre la tua competenza. Ti stai cercando di umiliarmi da diverso tempo, ora apro io, ho due perle anche per te Carlo Pallavicino. Però io credo che tu faccia veramente un grande... che io non debba essere a scrivere lo sbagliate tutto, ma cosa ho sbagliato? A me quello che ho sbagliato mi ha fatto tanto dispiacere, a te ti ha fatto contento perché te volevi la rovina della Fiorentina, perché te volevi chiamassero via tutti. Hai capito? Facciamo far rispondere anche Carlo. Furio, non ne hai indovinata mezza ma va bene lo stesso, quello che per noi è tollerabile... Non hai un amico, parla vicino. Un amico, un flash di Macello, poi dopo voglio sentire anche Carlo. Olivera, Amaudi, Mufu, Corvino, Cargiacce, che valeva 25 milioni di euro. Mi ricordi le stupidaggini che hai raccontato o no? Per non parlare di Monsolino... Ti prego di moderare i termini perché fa molto che Rossino è una suora delle Orsoline. Stai attento, parla vicino, non ti divertire con me perché trovi duro, trovi duro che ho due o tre perle con te di elevere, te lo ricordo io, te e i tuoi due amici con i bracini armati che fanno del terrorismo, stai attento, parla vicino, stai molto attento e da qui l'avanti quando mi vedi scansami perché non ti voglio più vedere. Allora, Macello su... Scusate, sono scusate che ti dà un microfono. Dopo l'ultima stupidaggine che ti ha raccontato oggi, Montolivo ha tirato per meneprismo e rigore, una radio normale ti toglie la parola perché hai detto l'ultima stupidaggine di una dura serie di stupidaggini. Ringrazia il cielo che, siccome sei simpatico, la gente ancora si ascolta perché tra te il calcio c'è un abisso. Palla vicino, potevi fare l'arbitro te, te le cose belle te le sei comprate, te dove giocava a pallone perché lo compravi il pallone, se non giocavi mai... Marcello, dai, cerchiamo di... Scusate, palla vicino, tiro fuori la voce residua per farti una domanda. Siccome so che tu lo sai, qual è in questo momento il protagonista della successione al direttore sportivo? Chi è il direttore sportivo prossimo della Fiorentina? Carlo? Ma io credo che sarà Sartori. Eh, il tuo fidanzato, il tuo fidanzato. Vabbè, dai, su, ora... Poi viene Pioli, no? Poi viene Pioli. Eh, certo, ma sono bravissimi. Ascoltiamo anche quello che c'è da dire, Carlo, dai. Allora, Sartori. Comunque, penso Sartori e sono ben felice che resti Macia, che giustamente non lavorando più nel calcio da tempo non sta neanche chi è, ma è un grande direttore sportivo. Eh, l'ho anche conosciuto, ma sia, amico mio. L'ho anche conosciuto. Ah, bravo. L'ho anche conosciuto. Perché almeno, almeno ne sai qualcosa di più. Comunque, voglio te come... Fa un altro mestiere, Carlo. Meno male che non le fa te le cose. Fa un altro mestiere. Come cavaretista sei spredditoso. Fa un altro mestiere. Mi meraviglio di te che fai il procuratore. Il calcio ormai c'è un lato di tempo abbattante. Io ero nell'ispogliato Italia-Germania 4-3, amico mio. Ok. Amico mio, io ho visto tre mondiali, quattro europei. Amico mio, non ti confrontare con me. Sceglilo più morbido, che viene a fare la guerra con me. Ma viene a fare la guerra con me. Ma hai sbagliato film, Carlo. E io, il mio papo, non ti permettere di parlare del mio papo che venga a trovarti ora. Grande Ferruccio Valerio, non ti permettere di parlare del mio papo. Non ti permettere di parlare del mio papo. Furio, Furio, non ti permettere di parlare del mio papo. Non sale merito. Basta così, mi interrompo. Vuoi che ti parli di Luca Lenni? Andiamo in pausa. Luca. Di Bartoletti. Andiamo in pausa. Vuoi che ti parli di Bartoletti che hai mandato via Luca Lenni? Furio, scusami. Allora, basta così. Allora, basta così. Ci fermiamo, andiamo in break e poi dopo torniamo qua nel rush finale.